... Sono circa un migliaio, stanno sfilando adesso per le vie di Napoli, via Foria precisamente, sono gli amici di scuola e gli amici di tutti i giorni, del quotidiano di Arturi, ragazzo accoltellato selvaggiamente l'altro giorno in via Foria, mentre aspettava l'autobus. L'unico e il grande grido che si leva dalla voce di questi ragazzi è Normalità, via le camorre dalla nostra società.